Bene amici, sono Fabrizio Ciancio, sono il fondatore della radio italiana in Florida, la radio del buonsenso e abbiamo qua una persona veramente molto interessante e soprattutto diciamo quello che fa nel suo mestiere si chiama Sandro Murtas e gli chiedo a lui quindi di presentarsi. Sì, salve, sono Sandro Murtas e lavoro con la Small Business Administration che è un ministero del governo degli Stati Uniti che ha la missione di aiutare la creazione delle piccole e medie imprese negli Stati Uniti, io specificamente lavoro con l'area internazionale quindi lavoriamo con aziende che esportano e li aiutiamo con i finanziamenti attraverso prestiti con le banche, noi garantizziamo i prestiti alle banche per facilitare l'accesso al credito. Ok, perché io so che qua in America bisogna avere il credit score oppure bisogna avere un'azienda che funziona da due anni per essere visti un pochettino dalle banche e invece con il vostro sistema anche un'azienda nuova che vuole fare una NUCO e cominciare a fare un lavoro qui ha delle possibilità? Sì, diciamo che usualmente le banche richiedono due anni di esistenza ma non è, diciamo, non è un requisito o come si dice una condizione sine qua non, deve avere due anni di esistenza ci sono anche aziende nuove che possono avere accesso al credito sempre bisogna dimostrare che l'azienda ha la possibilità di generare un flusso di cassa che possa aiutarle a pagare il debito, che sia un'azienda che può essere solvente quindi, diciamo, il numero di anni di operazione, sì, è importante ma non è fondamentale quindi ci sono dei programmi che aiutano alle aziende ad avere accesso al credito Ok, quindi io ad esempio ho una società che si occupa di fare consulenze e consiglio agli italiani di non fare una nuova azienda qua in America prima di conoscere bene il mercato, conoscere le regole, tutte le leggi che ci sono perché io ho sbagliato e tanti miei amici italiani hanno sbagliato e si sono trovati male poi hanno dovuto un po' aggiustare perché hanno fatto con la loro testa, no? e quindi cerco di aiutare le persone in questo e quindi consiglio di comprare dei business che già funzionano e per dei business che già funzionano, io consiglio minimo un EBIT di 800-900, un milione perché in questa maniera qua è vero che costano 5-6 milioni queste aziende, no? e hanno dei fatturati di 7-8-9 milioni, dipende dalle aziende però con un milione di guadagni penso che è abbastanza per sopravvivere e ripagare l'azienda ma diciamo che l'importante è che, come hai detto tu, no? che si conosca bene il mercato perché anche io ho avuto, ho vissuto in diverse parti degli Stati Uniti, ho conosciuto gli imprenditori italiani e l'errore principale è fare le cose senza conoscere bene il mercato a volte hanno comprato anche aziende senza conoscere bene l'azienda e entrare un po' nei dettagli poi è importante anche prima di fare un investimento molte volte si sono lanciati, hanno fatto dei grandi investimenti hanno comprato locale cose che realmente se ancora non sai quanto è redditizia l'azienda non si dovrebbero fare diciamo che io raccomando sempre prima di tutto conoscere bene il mercato non è il paese dei bengodi è difficile in Italia ma è difficile anche qui quindi in nessuna parte del mondo ti regalano niente devi guadagnarlo e devi capire che bisogna fare le cose con molta attenzione con molti scrupoli e soprattutto sempre affidarsi ai consigli di persone sia che abbiano la preparazione professionale siano conoscitori CPA, commercialisti, avvocati e poi anche altre persone che magari sono qui da anni che hanno aziende che sono sempre una fonte inesauribile di consigli sì esatto perché aziende che magari sono già sul mercato da 20 anni, da 30 anni e puoi controllare magari gli ultimi 3, 4, 5 anni e vedere che sta crescendo nonostante magari ci possono essere dei periodi in cui non va benissimo però qua in America ragazzi c'è veramente molta concorrenza e ci sono problemi che in Europa non abbiamo come ad esempio il personale il personale non è sempre facile da trovare ci sono delle... no? sì, molte volte può sembrare anche meno costoso però è anche meno affidabile io dico sempre che diciamo la professionalità in Europa sia non solamente del professionista ma anche dell'operaio è molte volte molto superiore a quello che si trova qui quindi bisogna fare le cose con molta attenzione non pensare che qui è più facile sembra più facile perché non conosciamo bene l'ambiente ma una volta che uno conosce e sa, e sperimenta allora se ne rende conto Perfetto ecco, in base alla tua esperienza quanti, non dico fallimenti ma quante aziende su 100 hanno avuto problemi proprio perché avevano sottovalutato questi aspetti? ma diciamo che c'è un'alta percentuale diciamo di aziende che di nuovo non è che siano state delle idee sbagliate dei progetti sbagliati però sì diciamo che dicono che il diavolo si trova tra i dettagli è stato più che altro un problema di non fare le cose nel modo appropriato ecco, molte volte ti può costare un po' di più affidarti a un a un commercialista o affidarti a un avvocato e dici no, è che mi costa sì, però non è quello che ti costa è quello che ti può far risparmiare se fai un errore e lì è dove è stata la cosa più diciamo dove ci sono stati i più problemi e poi diciamo ci sono anche delle aziende che hanno avuto molto successo però chiaramente non è un successo non è un successo che è venuto senza lavoro c'è stata molta fatica e molti errori anche dietro quindi diciamo di nuovo affidarsi all'esperienza sia dei professionisti sia diciamo della rete di imprenditori italiani che uno può conoscere ecco e quindi voi prima di ovviamente garantire questa azienda qua perché poi cosa succede se questa azienda qua va in bancarotta vi tocca pagare voi le banche sì ma poi ci sono tutte le garanzie diciamo che non è un non sono dei soldi che vengono dati gratuitamente uno sempre deve mettere le garanzie personali aziendali deve dimostrare che l'azienda ha la capacità di poter ripagare il prestito cioè è tutto un processo diciamo però sono sono dei 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 programmi che diciamo aiutano a quelle aziende che hanno fondamentalmente sono delle aziende con molto potenziale però che ancora hanno delle debolezze diciamo come sia come struttura finanziaria o perché sono aziende giovani però sì che hanno il potenziale per crescere quello è l'elemento principale dimostrare che l'azienda ha le capacità per crescere poi l'altro se è quell'ingrediente lì c'è una soluzione a tutto perfetto ecco noi ci siamo conosciuti al club italiano di Ibor City una due settimane fa due settimane fa anzi e che perché c'è un progetto di creare una camera di commercio per spingere diciamo il made in Italy e per aiutare gli italiani a fare business qua ecco in questo in questo progetto tu con la tua azienda come sei messo noi diciamo appoggiamo tutte le iniziative che abbiano a che fare con il commercio internazionale sono diciamo organizzazioni come le camere di commercio tra Stati Uniti e altri paesi ce ne sono anche altre sarebbe interessante crearlo qui a a Tampa con l'istituzione portarla anche qui perché diciamo facilita e credo che la cosa più importante sia che se riusciamo a far associare diversi imprenditori italiani che riescano a creare collaborazione e collaborazione non significa necessariamente fare affari insieme se no come dicevi tu anche affidarsi ai consigli di persone che magari sono già passati per quella via Crucis e che possono farci magari risparmiare certi errori che loro già hanno commesso ecco quello è il beneficio e poi chiaramente poter facilitare l'entrata di nuovi prodotti italiani al mercato e magari diciamo dare opportunità diversi aria del paese a poter entrare negli Stati Uniti e in altri paesi e ricordiamoci che qui siamo vicini ai Caraibi siamo vicini al Centro America al Sud America bene esatto perché vogliamo un po' spingere questa zona di Tampa che diciamo è perché tutti pensano quando io gli dico vivo in Florida tu vivi a Miami esiste solo Miami e Orlando no c'è Tampa in mezzo che è molto interessante appunto che si sta sviluppando parecchio è a 5 km 5 ore di macchina a nord di Miami e a 2 ore 1 ora e mezza meglio 2 ore perché sono troppo veloce da Orlando che sono le città più conosciute quindi siamo un po' in mezzo nella Florida centrale quindi se avete un progetto se avete un'idea chiamate ci sono tutti i professionisti che possono dare consigli e per vedere appunto se il vostro progetto può avere o magari ha bisogno di qualche approfondimento di qualche ricerca di mercato per scoprire qui come perché molti mi chiamano dicono io ho la ricetta del pane della nonna che adesso la vendiamo in tutti gli americani e la comprano attenzione gli americani gli piacciono le cose americane non sempre una parte piacciono le cose particolari però bisogna fare attenzione con diciamo il pensiero positivo pensiero positivo bene ci vuole ovviamente però poi guardiamo anche la realtà giusto? certo diciamo che tutti i mercati hanno le loro caratteristiche diciamo che non tutte le città sono Los Angeles o New York o grandi città dove c'è una popolazione abbastanza estesa che ha anche un potere acquisitivo perché la qualità costa quindi uno deve valutare bene il mercato e vedere quanto è grande diciamo quanta gente c'è che è disposta a pagare per quella qualità quindi sempre torniamo è meglio sbagliare mentre si sta facendo il disegno del progetto piuttosto che sbagliare quando ormai abbiamo già incominciato abbiamo già fatto un investimento benissimo grazie allora Sandro e spero di passarti tanti contatti di tanti italiani che così almeno come fare un po' l'assicurazione invece di buttarsi direttamente controllano e ascoltano un pochettino gli esperti qua che sono in America da tanti anni volevo farti una domanda però la tua azienda è un'azienda privata o un'azienda governativa governativa esatto è un ministero del governo degli Stati Uniti quindi come sviluppo economico diciamo per gli Stati Uniti quindi tu non hai interesse a dire una cosa o l'altra perché io lavoro con il governo quindi non non ho nessun interesse diciamo con tutte le aziende sempre diciamo noi lavoriamo con tutte le banche a volte ci sono persone che ci chiedono di raccomandarle una banca se dobbiamo diciamo mandarle a una banca sempre ma andiamo perlomeno a tre che possano così parlare vedere quella che è meglio può aiutarle sì esatto qua c'è differenza fra una banca e l'altra parecchio e anche io ho avuto esperienze e adesso io consiglio le banche che ho trovato dopo tanti anni bene allora ti ringrazio per il tuo tempo e grazie anche a voi che ci state ascoltando o vedendo sul mio canale youtube e ci sentiamo presto ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti